Con l'arrivo della primavera le vetrine di Arona si sono completate con le opere d'arte dei soci di Arte ad Arona. Come ogni anno, questa importante iniziativa che coinvolge più o meno tutto il centro, Sonia. Esatto, anche quest'anno ritorniamo con Arte in vetrina. Sono più di 90 quadri, sculture e fotografie che hanno arricchito le vetrine di più di 70 negozi. Insomma, con la Pasqua ci sono tanti turisti in tempo magnifico. Arona è sempre più sensibile a queste iniziative di arte proprio per accompagnare i suoi abitui, ma anche i turisti, in un'avventura un po' più artistica. È vero, piace molto questa iniziativa che da un paio d'anni abbiamo spostato un pochino in avanti proprio per adeguarci alle esigenze dei negozianti che in questo periodo rifanno le vetrine, quindi le vetrine sono molto colorate, con fiori, i colori dell'abbigliamento di moda praticamente, quindi rosa, gialli, proprio bello. E poi questi bellissimi anche ombrelli che sono molto decorativi. Insomma, questa mostra en plein air, possiamo usare questi termini un po' più tecnici, durerà fino? Allora, la mostra durerà fino all'8 di aprile, poi a discrezione del negoziante tenere, se ha piacere, l'opera d'arte fino a quando vuole praticamente, anche quindi più avanti. Quanti sono i soci che aderiscono a questa iniziativa? Allora, quest'anno su 57 soci hanno aderito una quarantina di soci, quindi la stragrande maggioranza, e noi siamo molto contenti perché facciamo scegliere ai negozi con un book fotografico l'opera che più si addice alla vetrina e loro addirittura molte volte ci costruiscono la nuova vetrina sull'opera d'arte.